benvenuti a quarta di copertina oggi incontriamo un giovanissimo autore di cornier io vi ricordo che se anche voi volete venire a parlarci del vostro progetto editoriale che sia artistico musicale letterario un saggio una ricerca potete farlo scrivendomi a deborabocchiardo chiocciolagmail.com veniamo quindi alla puntata di oggi registrata come sempre negli studi rivarolesi di obiettivo news e abbiamo con noi lorenzo holli giovanissimo a vent'anni di cornier studente lavoratore perché lavora nella ditta di marmi di famiglia ma ha da sempre una grandissima passione per la scrittura il suo libro quello che viene a presentare oggi ha un titolo che è tutto un programma perché è la tentazione del liberal perennialismo dialogo tra il doppio la verità e la legge autopubblicato su amazon e in distribuzione anche nelle librerie nelle prossime settimane lorenzo un nome un titolo molto impegnativo questo sì come nasce l'idea di un libro così impegnativo tra l'altro tu studi amministrazione finanziaria e marketing finanza e marketing finanza e marketing è vicino i tuoi studi vicino i tuoi interessi perché stiamo parlando di un libro che ha un po la struttura del dialogo socratico un po questo stile che ricorda l'antica grecia i grandi pensatori i padri della filosofia da dove viene quest'idea allora io parto che già quando avevo più o meno 12 13 anni così per me c'è sempre stata una grande passione per la storia per la filosofia per il mondo delle religioni della politica e questo ovviamente mi ha portato a fare una grande ricerca e più di tutto sentivo proprio il bisogno di creare una filosofia che cercasse di rispondere a tutti i quesiti dell'attualità della visione filosofica e quindi io ho pensato di chiamare questa filosofia libera il perennialismo perché perché indica praticamente le mie due idee che mi hanno più influito sia la teoria del liberalismo classico che quindi una teoria politico economica che sostiene il libremercato sostiene l'individualità delle persone sostiene i vari diritti della persona e poi allo stesso tempo anche però perennialista il perennialismo era una corrente dell'ottocento sviluppata da dall'esoterista francese rené gronna e lui sosteneva che all'interno di tutte le religioni del mondo all'interno delle loro simbologie ci fosse una verità comune verità che spetta al ricercatore trovarla e riuscire a ricostruirla ovviamente è una filosofia che comunque sostiene che la società moderna abbia comunque portato anche delle dei lati negativi quindi una sorta di conservatorismo ottocentesco ecco ovviamente rivisto in una chiave moderna e proprio per questo unito al libera al liberalismo è curioso perché si parla del dialogo tra il dubbio la verità e la legge ma dove avviene questo dialogo allora questo dialogo avviene nel bosco di salto in frazione voira perché è un dialogo in stile socratico ma che avviene alle porte di corgnè se provincia di turino sì perché io abito a salto e per me il bosco di salto soprattutto nei periodi anche ad esempio del lockdown o comunque in periodi di incertezza così io andando a fare delle passeggiate all'interno del bosco mi sentivo proprio proprio rigenerato ecco proprio mi aiutava molto a chiarire le mie idee a stare meglio e quindi ho pensato che quando ho voluto strutturare il libro ho proprio pensato che quello fosse il luogo giusto dove ambientare la scena e la scena è praticamente parla di tre personaggi dubbio il dubbio che alla fine sarei io che mi pongo le domande e cerco delle risposte e gli altri personaggi che sono veritas quindi verità che lei cerca di introdurre tutta la parte legato alla filosofia la metafisica la religione esoterismo e lontologia e poi c'è la figura di lex la legge che praticamente lui invece cerca di spiegare la parte economica politica l'arte lo sport e la storia dell'occidente e quindi questi tre personaggi dialogano e nel dialogo parlo delle mie posizioni sulla filosofia sua politica la regione ma quindi sei un giovane controcorrente perché sia questa immagine dei ragazzi di oggi che siano un po come dire scollati da quelli che sono i problemi concreti invece tu sei un giovane che si interessa molto dei problemi concreti ti interessi anche di anche di pubblica amministrazione quindi non è vero che i ragazzi di oggi sono così distanti dalla quotidianità dalle problematiche concrete questi questi argomenti che tu hai scelto sono vari e sono distribuiti in maniera abbastanza equilibrata su tutto il volume tra l'altro tu hai messo la possibilità a un certo punto di inserire delle note quindi leggendo è possibile anche prendere appunti perché questa scelta allora questa scelta che potrà fare anche sorridere perché qua parla un pochino di di un po un mio una mia ossessione con sui libri cioè a me piace che il libro sia tutto pulito non ci siano sottolineature scarabocchi e quindi quando ho pensato siccome questo libro è anche strutturato per essere un confronto tra me e lettore io ho pensato facciamo delle note d'autore dove la persona può comodamente scriversi i propri appunti le proprie perplessità può insomma quello che poi gli può essere utile per aiutare meglio a capire il libro e o magari anche mettere invece il suo di pensiero perché no e quindi la funzione delle note d'autore proprio quello mettere giù il pensiero del lettore questo è il tuo primo libro se neanche una bella emozione è una bella soddisfazione gli argomenti sono tanti ci sono anche delle immagini che fanno pensare a figure fantastiche o mitologiche parliamo per esempio del leviatano come mai la scelta di inserire immagini a volte anche abbastanza di impatto e personaggi di questo tipo figure di questo tipo sì allora io praticamente mi rifaccio anche tanto alla teoria degli archetipi di car jung che per me è stato un pensatore che proprio mi ha cambiato molto il mio modo di vedere il mondo la vita e quindi io sostengo che l'universo sia composto da da quattro elementi che generano tutta la civiltà generano la storia e praticamente sono l'ordine che possiamo intenderlo come l'essere a cui io l'ho rappresentato con la figura del dio padre quindi quello presente nelle grandi religioni monoteistiche ma anche pagane se pensiamo ad esempio il culto del sole che è quello che genera l'ordine crea la vita e poi c'è la figura della grande madre che indica il caos di venire quindi come come avviene il mutamento del mondo e poi c'è l'unione tra tra l'essere il divenire quindi quando si trova la via di mezzo e che questa via di mezzo porta a creare cose nuove e lo chiamato che il logos il bene e lo chiamato il figlio divino perché nasce dall'unione di queste due entità non so pensiamo a gesù pensiamo a orus nell'egitto mitra buddha insomma tutte queste figure che avevano creato le grandi religioni e poi c'è anche un altro punto che il male quindi leviatano quello che invece opposto a quest'unione che può essere un adeguarsi solo alla figura della grande madre oppure solo alla figura del dio padre quindi c'è un'esaltazione di un'ideologia non sono nella storia ne abbiamo viste tante abbiamo visto il comunismo il fascismo o altre ideologie moderne che come si dice puntano a un certo radicalismo ecco e e quindi la figura parla anche dello scontro mitologico tra l'eroe contro la figura del serpente del drago ecco perché il male l'ho voluto chiamare il leviatano già lo stesso ops parlava di un leviatano che controlla la vita delle persone e quindi la figura con cui mi sono sentito che rappresentasse meglio questo concetto è stato proprio leviatano qual è la parte del libro che ti ha appassionato di più quali sono gli argomenti su cui hai lavorato con maggior interesse proprio personale ma devo dire che più o meno mi hanno affascinato un po tutti gli argomenti che ho parlato ho parlato ad esempio anche degli errori che fanno gli occultisti moderni quindi tutti quelli a partire dagli anni del novecento che ad esempio non so le nuove teorie new age che però loro cosa fanno interpretano lo psichico con la spirituale quindi ci sono degli errori che portano non so non so per esempio gli ufo il paranormale quindi esempio riprendendo le teorie sempre di ghénon ho cercato di smontare ecco queste teorie che invece non hanno un sedi spirituale se di tradizione ma sono delle idee moderne e poi ad esempio c'è la parte politica che ho affrontato tanti ovviamente da un punto di vista liberale ho parlato di come dovrebbe essere la tassazione la sanità l'istruzione poi ad esempio ne ho parlato nella politica estera ad esempio essendo io metà albanese metà italiano parlato anche ad esempio di questioni legate a politica albanese o alla guerra del costo poi parlato alla situazione israelo palestinese la guerra in ucraina insomma cercando di affrontare i pergomenti nei nella parte dei ditti civili ho parlato dell'eutanasia della pena di morte dell'aborto insomma su tanti argomenti devo dire che a me anche la parte dove ho cercato di fare un riassunto della storia mi hanno affascinato tutti e quindi dire proprio un capitolo che mi ha affascinato di più dell'altro mi viene molto difficile allora il libro facciamo un po di spoiler verrà presentato a cornie diciamo nell'arco del mese di marzo quindi se siete in zona tenete d'occhio le cronache locali o la pagina facebook di lorenzo holli e potrete avere riscontri su quali saranno i futuri impegni e le future presentazioni è chiaro che qui stiamo parlando di un libro non troppo voluminoso diciamo centinaia di pagine che però il frutto condensato di un lavoro che dura da tanti anni quando è iniziata per te che sei appena vent'è nell'interesse per questi argomenti che sono abbastanza inusuali non giovane ma più o meno intorno all'età di 12 13 anni mi ricordo che all'epoca già mi affascinava la politica quindi seguivo già i telegiornali leggevo i giornali locali ma anche sia locali che nazionali e poi ad esempio mi formavo soprattutto anche tramite internet che vabbè ovviamente sappiamo che internet tante cose lascia un po il tempo che trova perché insomma ci sono tante cose che vengono poi rivelate vere ma anche false e poi all'epoca iniziando a affascinarmi della simbologia religiosa avevo iniziato a 13 anni a leggere la bibbia proprio penso non so dire se l'ho letta tutta ma sicuramente una buona parte l'ho letta ma l'hai letta in modo critico se l'ho letta in tesi in modo simbolico e questo ovviamente mi ha portato comunque a ritenere la filosofia del cristianesimo una filosofia positiva molto importante nostra città e da dopo la bibbia è iniziato a affascinarmi anche delle altre religioni delle altre simbologie non so l'alchimia il buddismo l'islam la cabala insomma tutte tutto quello che spaziava al mondo della spiritualità e io ti faccio una domanda difficile se dammi una tua definizione di filosofia e una tua definizione di religione si intrecciano sono due cose diverse no si intrecciano perché allora la religione e la filosofia secondo me hanno molti punti in comune perché ad esempio la la religione cerca come si dice di di richiamare dei simbolismi cerca di tramite delle immagini richiamare dei concetti filosofici quindi sono sono comunque importanti non non penso che siano in contrasto in verità le filosofie moderne soprattutto il post modernismo penso che sia molto critico della della religione molto critico della metafisica però in realtà io trovo che senza senza una filosofia metafisica non può arrivare a una filosofia etica una filosofia politica una filosofia dell'arte sono tutti i passaggi che che devono comunque rientrare in una grande filosofia che cerca di rispondere a tutte le questioni dell'uomo dell'umanità tu hai scelto un percorso di studi che si occupa di amministrazione finanza e marketing poi ai questi grandi interessi personali legati invece un ambito più umanistico queste questi due pesi sulla bilancia della tua formazione si integrano perché direi che questo libro è la dimostrazione del fatto che si è riuscito a fare un diciamo un connubio a creare un connubio abbastanza omogeneo di tutte queste forme di istruzione chiamiamola così che hanno formato poi il tuo pensiero si è riuscito a unire le due cose due percorsi c'è allora diciamo che il mio percorso scolastico è stato un po travagliato perché mi sono iscritto dopo le medie mi sono iscritto al cec di valperga ho studiato l'indirizzo meccanico anche se a me la meccanica non mi piaceva però volevo avere un mestiere in mano ecco e quindi ho iniziato a studiare meccanica o frequentati quattro anni che sono per arrivare a quello che sarebbe un diploma professionale e però mi sono reso conto che volevo qualcosa di più ecco della qualifica e quindi nel mese di dicembre oltre che per cercare anche di comprendere meglio quello che può essere un domani gestire l'attività di famiglia e a me comunque mi piacerebbe un domani diventare anche un marmista come lo sono stati mio papà e mio nonno e quindi fare tutta la parte del marmo che riguarda l'arte funeraria all'arredamento l'edilizia e quindi questo l'indirizzo di amministrazione finanza e marketing mi aiuta proprio a comprendere questa parte più sulla gestione dell'impresa più concreto esatto però allo stesso tempo sì io ho sempre avuto questa passione per le materie umanistiche un po' meno per quelle matematiche che infatti non ho dei bei voti però c'è l'idea di proseguire l'università mi pare ma allora sono sincero non avevo ancora pensato all'università perché volevo concentrarmi sul recuperare gli anni scolastici che ho perso cercare di avere il diploma non mi dispiacerebbe anche l'idea di un'università perché comunque è sempre un titolo di studio in più perché comunque insomma questa volta magari cercare di qualcosa più legata alla materia umanistica ecco all'università e quindi sì solo che dall'altra sono anche un po combattuto sul fatto di dire ma magari non so i soldi dell'università metterli nell'attività di famiglia non lo so però al momento rimango un po sul vago ecco cosa ti aspetti da questa avventura editoriale che ti apre un po la possibilità anche del confronto perché dopo aver tanto studiato hai magari la possibilità di dialogare come fanno i protagonisti del tuo saggio magari col tuo pubblico cosa cosa ti aspetti da questa esperienza ma allora io sono partito dall'idea che non mi aspetto che questo libro diventi un best seller diventi non lo so un caso letterario o qualcosa diciamo che ho voluto fare questo libro più per un più per realizzare un mio sogno che per un vero e proprio guadagno o per chi sa vendere quante copie cioè io l'ho fatto proprio perché per me scrivere un libro è un sogno confido a bambino e finalmente vedere di averlo pubblicato per me è stata uno dei giorni più belli della mia vita il giorno che ho visto arrivare la coppia a casa con fatto proprio bene cartaceo così per me è stata veramente un'emozione indescrivibile ricordiamo il titolo la tentazione del liberal perennialismo dialogo tra il dubbio la verità e la legge tre protagonisti tu se dovessi scegliere quale essere quale vorresti interpretare beh io mi sento molto dubbio ma il protagonista che invece pone le domande e cerca come si dice di arrivare alle sue conclusioni perché io ancora ancora adesso mi sento che voglio ancora informarmi ancora di più per arrivare a capire altre questioni e quindi non è detto che un domani magari esca una nuova edizione del libro magari con più argomenti più magari tra qualche anno e quindi io mi sento ancora molto dubbio cioè mi sento ancora molto nel dubbio che voglio cercare ancora nuove risposte e però il dubbio si sente che alla fine del libro si sente di aver già una base su cui puoi partire e continuare la sua ricerca in un mondo in cui si è sempre più travolti dalla tecnologia dall'informazione scientifica adesso si parla molto di intelligenza artificiale tu invece vai a rispolverare addirittura il dialogo socratico le forme più meditative di scrittura e anche di confronto con se stessi e con gli altri invece da da ragazzo giovane come ti poni nei confronti di queste novità che stanno arrivando e che andranno sicuramente a stravolgere anche gli scenari che tu hai descritto all'interno del tuo libro perché tu parli di economia parli di socialità parli di una struttura sociale di un certo tipo che sicuramente andrà a impattare con le novità in arrivo come come prevedi che possa svilupparsi questo tipo di di società con l'arrivo delle nuove tecnologie ma io penso che allora forse la mia una visione un po pessimista e forse ancora che ha bisogno ancora di informarsi di più allora io sono sincero io ritengo che la novità tecnologica possa avere dei grandi vantaggi per l'umanità soprattutto penso al campo della medicina della biomedicina quindi non so ad esempio adesso qualche giorno fa è venuto famoso il caso che Elon Musk ha detto che la prima persona che ha ricevuto il microchip all'interno del cervello addirittura ora si è in grado con la forza del pensiero di muovere ad esempio il mouse del computer ora questa cosa qua io penso che ad esempio per un malato di SLA o di queste malattie neurodegenerative secondo me sia sia veramente un mezzo con cui si può riuscire a sconfiggere queste malattie e cercare di aiutare il paziente quindi io su questo lato sono molto positivo ma tendo invece sulla parte più politico sociale a essere invece un pochino più più critico perché il problema della macchina è che la macchina non è in sé cosciente l'uomo può farsi influenzare dal sentimento può la macchina invece segue un algoritmo segue un senso logico quindi non so come poi potrebbero essere applicate esempio ci sono già i casi dove l'intelligenza artificiale modifica la voce della persona e fa risultare che abbia detto quella cosa creando fake news e quindi penso che ci sia un grande vantaggio ma che l'umanità deve deve cercare di essere pronta al cambiamento ma al tempo stesso ritengo che forse non è ancora l'ora per queste tecnologie ecco quindi tuo personaggio del dubbio su questi argomenti avrebbe molte domande da porre parliamo sempre di un punto di vista del ragazzo di vent'anni chiaramente e per il tuo futuro quanto prevedi possa essere protagonista la scrittura magari la pubblicazione di altri romanzi sia saggi ma allora io a parte che avevo pensato magari un domani che ovviamente usciranno nuovi temi di attualità quindi a fare una nuova edizione del libro ma io ho già anche pensato ad esempio una raccolta di poesie a cui io sono molto legato perché mia nonna mia mi aveva sempre incentivato nella scrittura lei mi piaceva tanto le poesie che scrivevo perché lei insomma ci teneva infatti aveva persino fatto una raccolta dove io le stampavo lei le raccoglieva le mettevate ma eri piccolo all'epoca quanti anni avevi quando scrivevi queste poesie ma avevo dai 15 16 17 anni così e quindi su certe cose si nota che sono poesie anche un po adolescenziali e però che comunque ritengo che sia sia possa essere una bella cosa pubblicare almeno per la memoria di mia nonna e poi avevo anche un romanzo aveva fatto un una sorta di thriller ambientato nel canavese così ma quello lì lo trovo ancora una scrittura un po un po immatura quindi non so perché l'ho fatto durante il lockdown quindi qualche anno fa e quindi ancora non so se potrebbero un domani essere pubblicati o meno però sì la mia io spero di pubblicare ancora altre opere beh si deve seguire un po quello che ci arriva dal canale delle idee a te che piacciono gli antichi greci anche questo 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 richiamo sicuramente ti è familiare cioè noi abbiamo un canale delle idee che trasmette le ispirazioni gli input a creare quindi tu magari deve aspettare un momento giusto per dare vita e far crescere queste nuove creature insomma ti senti più portato per la saggistica o per la parte più creativa magari legata alla poesia un romanzo più saggistica molto di più perché anche nei temi a scuola ad esempio io cerco sempre di fare dei temi legati a questioni storiche filosofiche o di attualità così infatti ho sempre voti molto alti su questa cosa io proprio la faccio la scrivo proprio di getto poi la rivedo per eventuali errori però mi sento proprio come un fiume ecco che mi faccio trasportare dalla corrente inizio a scrivere tanto consigli ai tuoi coetanei di scrivere di studiare è più importante dare sfogo a questo fiume e scrivere sfruttando il potere terapeutico della scrittura o è più importante conoscere quindi studiare ma io penso che siano entrambe delle cose molto importanti anche perché per scrivere bene devi prima avere una base di studio non so se vuoi scrivere un romanzo devi ovviamente cercare di aver analizzato la letteratura classica devi aver cercato di analizzare il genere ad esempio se tu vuoi scrivere un giallo ovviamente grandi romanzi come quelli di conan doyle o di agatha christie sono ovviamente delle cose che dovresti per forza leggere e se vuoi ovviamente pubblicare un saggio devi prima informarti leggere studiare quindi io penso che quello che consiglio ai miei coetanei e di fare tutte e due se se la sentono di scrivere di scrivere ma prima soprattutto di studiare di informarsi perché viene vista come una cosa cosa noiosa ma perché non diamo il giusto valore ma secondo me l'informazione è una grande cosa perché ci permette di scoprire dei mondi che che neanche immaginiamo e soprattutto se applicata la vita quotidiana ci può veramente aiutare tanto io credo che il fatto che tu abbia iniziato un percorso più professionale per poi scoprire in te una volontà di formazione diversa proprio più umanistica sia un po la molla che ti ha portato ad approfondire determinati argomenti intendo dire un ragazzo che si avventura subito sulla strada di un liceo traccia un itinerario e lo segue fino in fondo tu hai avuto un po' un itinerario scolastico altalenante che quindi ti ha permesso di scoprire sia cosa poteva offrire una formazione più professionale sia quelli che erano i tuoi interessi più umanistici ti riconosci in questo ritratto voglio dire quello che poteva sembrare l'inizio d'errore in realtà è stato una risorsa quindi dalla difficoltà di dover cambiare il proprio percorso di studi tu hai tratto molto vantaggio perché ti ha permesso di formarti a più livelli sì sì perché io comunque facevo le materie meccaniche tutto anche se come dicevo la meccanica non è che sia propriamente la mia passione e ancora adesso comunque voglio fare dei lavori tecnici perché il marmista comunque un grande lavoro che richiede la parte tecnica che richiede una certa conoscenza dei materiali delle nuove tecnologie i nuovi macchinari ecco e però io penso che sia importante tutte due sia importante la formazione professionale e se informazione sia importante la formazione culturale io penso che se queste due cose vanno in equilibrio secondo me ci possono aprire veramente grandi cose nella vita questo è il tuo primo libro la tentazione del liberal perennialismo dialogo tra il dubbio la verità e la legge vi ricordo che lo trovate su amazon che a breve verrà presentato a corgnè e poi seguiranno altri incontri lo potete anche comprare liberia tra qualche settimana è una bella opera per te una grande soddisfazione vuoi ringraziare qualcuno che ti ha aiutato nella stesura di questo libro sì io veramente devo molto a due persone in particolare che sono celestina ronchetto che adesso tra l'altro è diventata persino la mia professoressa di italiana storia e quindi io trovo che quando seguo le sue materie veramente mi crea ancora più amore per per queste materie umanistiche veramente proprio molto brava e poi anche a dario noascone e anche lui di salto come me e lui veramente anche una grande persona di cultura una grande a una certa sensibilità e quindi io veramente se non ci fossero stati i loro due io non sarei riuscito a realizzare l'opera così infatti mi sono rivolta loro per tanti consigli e loro l'hanno fatto proprio a scopo di piacere non mi hanno chiesto niente l'hanno fatto proprio per amore della cultura per per l'amicizia che c'è con me e quindi li ringrazio molto e noi mandiamo un grande saluto sia celestina rocchetti che a dario noascone e il nostro tempo a nostra disposizione sta per esaurirsi manda un messaggio ai nostri ascoltatori e dicendo loro perché comprare la tentazione del liberal perennialismo sì allora io non voglio che questo libro si interpretato come un mezzo per imporre un pensiero per cercare non so di fare proselitismo verso il mio pensiero piuttosto che la mia filosofia o altro allora questo libro deve essere visto come un confronto tra me e lettore io queste idee ci credo e continua a condividerle ma volevo che questo libro aiutasse invece il lettore a magari porsi nuove domande magari anche arrivare a conclusioni diverse dalle mie però che consiglio di legge soprattutto perché oltre a essere un modo per incentivare una scrittura giovanile ecco quindi cercare di dare anche una possibilità nei giovani di inserirsi in questo mondo e anche soprattutto un modo per confrontarsi per vedere nuovi modi di ragionare e trovare anche un pensiero diverso un pensiero critico però che allo stesso tempo può arricchire il lettore culturalmente ecco grazie a lorenzo holli e io vi do appuntamento ai prossimi incontri con quarta di copertina e col mondo dell'editoria in tutte le sue sfaccettature e per partecipare facile basta scrivere a deborabocchiardo chiocciola gmail.com e venirci a trovare qui arrivarò negli studi di obiettivo news le interviste le potete trovare chiaramente sul sito di obiettivo news ma anche su youtube e in tutti i canali social collegati ringraziamo lorenzo e per quel che riguarda il nostro autore di oggi vi invito a seguirlo sulla sua pagina facebook quindi grazie a tutti e buon proseguimento di giornata